La banda ultralarga arriva anche in Val Sugana. In otto comuni saranno resi disponibili i collegamenti in fibra ottica. La novità arriva dal decreto Cura Italia e ci penserà la TIM. Nelle prossime settimane saranno accesi diversi armadi stradali per gestire tempestivamente e nel migliore dei modi i picchi di traffico di questa fase di emergenza Covid-19. Il decreto Cura Italia interessa in tutto 39 comuni trentini, 8 in Val Sugana, 5 in Alta Val Sugana, Civezzano, Pergine, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Levico. 3 nella bassa Val Sugana, Novaledo, Borgo e Castelnuovo. Sarà potenziata la rete e l'operatività, migliorando nella disponibilità così come la capacità e la qualità.